La scura della spending review si abbatte anche sulla sanità, questo già lo sapevamo da parecchio tempo, sono sempre di meno quelle che sono le terapie che possono essere prescritte dal medico di base al cittadino, che spesso appunto rimane un po' perplesso quando va dal dottore e questo lo rimanda altrove. Allora il dottor Carmine Barile ci spiega come va. Allora in effetti già da anni abbiamo tutta una normativa che restringe il campo dell'erogazione sia dei farmaci sia delle prestazioni diagnostiche, quindi dalle radiografie alle tacche alle risonanze magnetiche, non ultimi i decreti regionali di febbraio e maggio che hanno restretto ulteriormente l'utilizzo sia di alcuni farmaci, dove ci vuole il piano terapeutico e la prescrizione specialistica, sia delle cosiddette indagini tipo le genetiche, per esempio per le donne che devono sottoporsi oppure che hanno aborti ripetuti, oppure persone che hanno problemi sulla genetica. E tutto questo sulle cure odontoiatriche della mutua e tutto questo è stato vagliato appunto attraverso tutto un sistema che oggi la regione sta controllando e quindi ecco la ripercussione. In genere uno dice vabbè c'è questa restrizione scriviamolo lo stesso. Ora si hanno i medici e probabilmente fra poco anche i cittadini, così come per i ticket non autorizzati ma che venivano inseriti sulle ricette sta iniziando il controllo del 2015 per cui a noi medici cominciano ad arrivare le cosiddette note, non di accredito diretto, ma le note per le quali noi abbiamo prescritto secondo la commissione di vigilanza, TAC, risonanze magnetiche, non in forma appropriata secondo quelli che sono i rigidi canoni della prescrivibilità. Allora se da un lato noi sappiamo che la spesa sanitaria è aumentata enormemente, non tanto quella farmaceutica ma proprio la spesa sanitaria intesa come erogazione perché logicamente la popolazione naziana aumenta, quindi la richiesta di farmaci, di terapie aumenta. La stessa scienza fortunatamente l'applicazione della scienza dà nuove tecnologie che in genere tutti vorrebbero applicare. Ci sono farmaci di nuovissima generazione che guariscono malattie che prima erano impensabili tipo l'epatite C. Allora benvenuto l'altro giorno proprio, oggi il vaccino dell'epatite C per esempio è stato ammesso la terapia per l'eradicazione dell'epatite C che non sia quella interferonica che anche aveva un suo complesso ma degli effetti collaterali e non l'ha riuscita certa, è stata ammessa. Ora che cosa succede però? Consideriamo che il costo economico è altissimo per ogni soggetto. Allora si attende la cirrosi, allora diceva come io ho l'epatite C, so che fra qualche anno andrò in cirrosi, devo aspettare prima che mi ammallo di cirrosi, dopodiché avrò la terapia. Lo Stato deve mettere un filtro perché sono migliaia, anzi centinaia di migliaia, gli ammalati di epatite C. Se si volesse applicare a tutti la terapia eradicante del virus dell'epatite C, significherebbe che collasserebbe quello che è il sistema sanitario nazionale. No, perché si avrebbe nel giro di tre mesi una spesa talmente tale che dovremmo chiudere. Dovremmo chiudere tutti, non ci sarebbero gli stipendi per i dipendenti, per le medicine di routine e quant'altro. Allora, logicamente una commissione etica si è riunita e ha detto quando possiamo economicamente fronteggiare questa richiesta? Sì, quando la possiamo fronteggiare per evitare poi il cosiddetto disavanzo di spesa? Perché è vero, l'articolo 32 della Costituzione sancisce chiaramente il diritto alla salute in tutta l'Italia, quindi dalla Lombardia, l'Emilia Romagna a Pantelleria e la Sicilia, ma certamente dice anche un'altra cosa, l'articolo 82, dice che lo Stato è obbligato al pareggio di bilancio. Se faccio uno sbilancio vado anche contro un diritto costituzionalmente sancito. Allora, per ottemperare alle due cose bisogna chiedere il meno possibile. Perché poi, parliamoci chiaro, è vero, la cirrosi, come ci stanno i primi sintomi di cirrosi, sai che poi con l'inizio della cirrosi avrai il decadimento del soggetto e a quel punto il giro di 3, 4, 5 anni si potrebbe giungere al trapianto, alla morte del soggetto, a quel punto lo vai a curare. Dice, allora devo aspettare prima che il mio fegato vada in cirrosi. Purtroppo, per i costi altissimi dei prodotti, oggi deve aspettare l'inizio almeno di una parvenza di cirrosi, documentata da un punto di vista bioptico. Questo è il caso più eclatante di un farmaco quasi miracoloso, che è quello contro l'epatite C. Andiamo alle risonanze magnetiche. Le risonanze magnetiche non sono curative, sono diagnostiche. Allora, quando vanno prescritte? Vanno prescritte su dicitura di uno specialista, quindi ortopedico, laddove per esempio ritiene di dover intervenire chirurgicamente o dove è già intervenuto chirurgicamente e pensa di dover reintervenire o dove si pensa che ci sia, per esempio, una malattia neoplastica accertata o in fall-up. Allora, in quel caso la puoi prescrivere. Ma non si possono prescrivere le risonanze magnetiche perché ho avuto tre volte il giramento di testa, perché penso di avere qualcosa alla testa. Oddio, te la puoi fare. Paghi 176 euro e te la fai. E ti togli, come si suol dire, il pensiero. Però se si pretende poi tutto e tutto completamente dallo Stato, solo perché abbiamo pagato i contributi, io lo capisco che abbiamo pagato i contributi, però voglio dire, a un certo punto il sistema andrebbe a collassarsi. Per cui, qual è il consiglio che do? Innanzitutto affidarsi al proprio medico di famiglia, perché sicuramente è quello che tiene di più. Lo specialista, sì, vai, ti prescrive una caterva di esami, che insomma è anche ripetitivi perché non ha visto gli esami precedenti, e quindi fa una cosa, voglio dire, molto più approfondita, indubbiamente, però che poi va a caricare il medico di famiglia, il quale si ritrova con 50 esami, che casomai il 50% deve dire, guarda, mi dispiace, le fatti tre anni fa, le fatti un anno fa, non te li posso prescrivere, e quindi si va in questa forma di diatriba. Questo che cosa determina? Da un lato la insoddisfazione del povero paziente, dall'altro lato la frustrazione del medico che deve dire no, oppure deve spesso litigare col paziente, diciamo perché in città capita spesso che il paziente, per esempio, dice, non vi ho chiesto mai niente, è una cosa che vi chiede. Purtroppo quella cosa oggi è normata da tutta una serie di decreti, e di cose, ho capito? Purtroppo in Italia così funziona. Prima diamo tutto a tutti, poi nel momento in cui si restringono le cosiddette fila, tutti quanti ci lamentiamo. Pensiamo che in Europa, in paesi avanzati, tipo l'Inghilterra, determinate patologie, tipo il tumore, non vengono dopo gli 80-82 anni trattati, se non con cure palliative, perché si ritiene che il sistema non debba intervenire su un soggetto che ha una prospettiva di vita di 8 anni, per cui andare a investire 150.000, 200.000 euro su un soggetto che ha una prospettiva di vita già di per sé breve, non va a investire. E quindi dice no, dopo gli 80 anni, se lo vuoi e tieni l'assicurazione te lo fai. Io come sistema ti opero al tumore dell'intestino fino a 79 anni. Potrà sembrare cinico, però è un qualche cosa che mantiene comunque il contenimento di una spesa che altrimenti diventerebbe impossibile da fare. Cosa fare? Io dico sempre, la prima cosa, bisognerebbe investire molto di più, e non quel 4% che investe lo Stato italiano ormai da 20 anni, ed è sempre lo stesso, nella prevenzione. Allora il vero trucco è non far venire, o ritardare, o evitare che le malattie diano luogo poi a questo che è un turbinio che ci porta a una vecchiaia, casomai con pluripatologie, e che giustamente la persona dice io voglio essere trattata in tutta la mia cosa. Allora cercare di essere molto, mangiare meglio, non fumare, muoversi di più, non essere obesi. Cioè il più delle volte siamo noi a predeterminarci, specie se sappiamo di avere una familiarità diabetica, con il colesterolo, dove ci sono due o tre soggetti in famiglia, zii, nonni, nipoti, che hanno avuto l'infarto. E inutile come faccia con una aerografia, o la miocardiografia, o la scintigrafia miocardica per vedere se ho le arterie ostruite, e poi mi fumo un pacchetto di sigarette, mi mangio, la suppressata a Pasqua, a Natale, o a Casatello, e allora voglio dire, diventiamo quasi banali. Allora cerchiamo di essere seri, quindi una vera, secondo me, un vero risparmio, e una vera riduzione riduzione della morbilità e della mortalità dei soggetti va fatta attraverso una seria programmazione di informazione e di coscienza dei giovani. Non so se rendo l'idea. E' quella la vera forma di investimento, perché perlomeno nei prossimi 30 e 40 anni non ci troveremo soggetti, ci troveremo soggetti diciamo proiettati ai 110 anni che ci auguriamo che tutti i nostri figli e nipoti raggiungeranno, ma in una maniera salubre e in una maniera equilibrata sperando appunto che il costo poi venga mantenuto perché poi è un peccato, le urgenze sì, però poi tutto il resto è un peccato non poterlo fronteggiare. Quindi io dico sempre il migliore investimento è la prevenzione.